Quindi noi abbiamo una grande scienza materiale, costruiamo telecamere, televisioni, videoproiettori, facciamo delle cose straordinarie rispetto al passato. Ma è senza coscienza questa scienza, ci sta autodistruggendo. Ci hanno promesso pace e benessere e abbiamo malessere, il più grande malessere della storia dell'umanità nel cuore dell'uomo e una terribile condizione autodistruttiva. Io stavo meglio nella mia casa di povero contadino in Sardegna, col carro a cavallo, non in un mondo con decine di migliaia di armi atomiche. Quindi che ci ha dato sta scienza? Era un falso profeta. Se la scienza non viaggia di parallelo con l'etica, ci autodistruggiamo ed è quello che sta accadendo. Quindi abbiamo bisogno della scienza materiale, indubbiamente, ma abbiamo bisogno della scienza spirituale, non credo religiosi. Scienza spirituale...